In Torino qui siamo in pochi e io sono l'unico che è nato e vive a Torino da sempre e quindi fa strano vedere la propria città nei luoghi dove passi, incontrare la propria faccia di profilo, di fronte, appesa sui manifesti. Perché ero lì, insomma, perché Magis è venuto alla scuola di 23 persone, aveva bisogno forse di tipologie nelle quali io rientravo e quindi, niente, sono precipitato qua. Niente, ho fatto questa specie di provino, in realtà è un provino molto strano perché io pensavo di dover portare un pezzo, come si fa sempre, si porta un monologo o un dialogo, una cosa, e invece ci ha fatto fare delle prove, diciamo, prima delle cose molto fisiche di... non so, una cosa molto particolare con una scarpa, ci ha fatto levare le scarpe. Dopodiché lui un giorno, che era a Milano, ha chiamato noi tre, Arianna, Mattia e a me, e ci ha andato a prendere un caffè e ci ha parlato di questo progetto qua. Io ricordo che avevo letto un libro a scuola, ma mi ero fermata le prime pagine perché a me purtroppo le marionette non mi piacciono, cioè non è una roba che mi coinvolge, quindi dopo le marionette io ho detto, mi piace. Al prossimo episodio Grazie a tutti. Grazie a tutti.